Seconda edizione del Festival sulla qualità della vita. Massimo Melizi, vogliamo spiegare che cos'è questo festival e com'è nata questa iniziativa? Sì, questa iniziativa è nata l'anno scorso da un'idea della nostra associazione per mostrare quali sono proprio recuperare anche i saperi antichi e i valori dimenticati della nostra cultura. Abbiamo voluto racchiudere tutti questi saperi proprio in cinque aree, che sono le cinque aree principali del festival, quella delle mobilità e del turismo sostenibile, fatti a mano del riuso creativo, poi c'è la parte propriamente sulla qualità della vita, sport, salute e alimentazione, poi c'è un'ulteriore parte che è quella sull'economia circolare e poi la parte finale delle arti visive dove ci sono una serie di proiezioni per 15 ore tra cortometraggi, mediometraggi e documentari. Vogliamo entrare un attimo nel dettaglio di questa manifestazione e cosa vedremo in questa seconda edizione del festival sulla qualità della vita? Ecco, vedremo il verbo giusto perché una delle aree che stiamo maggiormente curando è quella delle arti visive. Ci sarà nella Sala Tosti all'interno dell'Aurum una tre giorni di proiezioni, documentari, webserie in anteprima, prime visioni in Abruzzo, ci premo a dire che Pino Zack, i fiori del male, è un documentario sulla satira sull'Italia negli ultimi anni che per la prima volta viene proiettato in Abruzzo in una sala e noi siamo veramente onorati che verrà il regista e verranno dei fondatori del male, questa rivista arcaica italiana come Mannelli, Zarrolli, si parlerà di Pino Zack ma soprattutto si parlerà di libertà perché la qualità della vita comincia soprattutto dalla libertà individuale.